Ed eccomi qua con i capelli tagliati in taglio primavera e ho riacquistato il look degli anni che ho i miei 50 anni, sto scherzando naturalmente, il prossimo settembre ne compirò 70, ma alla faccia di chi non mi vuole bene io continuerò a rompere le scatole in questo asfittico e provinciale mondo culturale sino a quando avrò fiato e mi raccomando, lo sappiate tutti, che se dovessi tirare le cuoia, quando dovessi tirare le cuoia, qualcuno inanellasse qualche elogio postumo funebre nei miei confronti, querelatelo per diffamazione. Grazie. Grazie.